Incassato l'ok dalla Lega per la riammissione in Serie D, ora per l'Olimpia agnonese viene la parte più difficile. Nell'ultima assemblea dei soci, il presidente uscente Marco Colaizzo ha ribadito l'intenzione di lasciare la carica più importante, anche se garantirà un contributo economico cospicuo. La società dunque ha due problemi importanti da risolvere in tempi ristrettissimi. Il primo, trovare un nuovo presidente in grado di garantire quella consistenza economica necessaria per affrontare la nuova stagione e nel contempo, capace a fare da collante tra le varie anime del club. Il secondo, individuare un uomo mercato cui sarà demandata l'area tecnica e dunque la scelta di allenatore e calciatori. I DS Made in Agnone fanno le fortune di altre società, Nicola Tottavio e Maurizio Sabelli lavorano per la Mastese, mentre Leo Ciccorelli è approdato ad Avezzano. Insomma, bisognerà attingere fuori dai confini molisani e non sarà certo facile trovare il profilo giusto. Innanzitutto una persona seria consapevole del fatto che avrà poco tempo e un budget risicato per mettere assieme un gruppo capace di centrare la salvezza o quantomeno provarci fino alla fine.